Si è parlato di trasporti, in particolare di trasporto su ferro oggi, nel corso della riunione della Commissione di Vigilanza in Consiglio regionale. È stato udito l'assessore regionale dei trasporti, Gian Donato Morra, per parlare soprattutto dei rapporti tra la Regione e Trenitalia. Sì, questa è la seconda riunione che si è tenuta. Alla prima riunione avevano partecipato il mio direttore, l'avvocato Mannetti, e per la prima volta, avevo chiesto io, avevo stato molto gentile, ha partecipato la scorsa volta alla riunione, anche il responsabile regionale di Trenitalia, il dottor Spedicato. E quindi nella prima fase, nella scorsa vigilanza, c'è stata questa fase di disamina, di attenzione, sul contratto solitario, a implicazioni, richieste, domande e quant'altro. Sono stati forniti anche documenti a sostegno e, ad esempio, era stato anche chiarito il discorso che l'unica Regione che ha la norma di salvaguardia è la Regione Abruzzo che ha messo una norma proprio a salvezza della cittadinanza abruzzese che prevede che in caso di mancati fondi nazionali l'Abruzzo può ridiscutere il contratto senza penalità. E poi altre cose, ci si è confrontati sulle sanzioni e altro. Oggi è toccato a me perché c'è stato un confronto anche su quelle che sono le iniziative politiche, il confronto su cose giuste, su cose condivise, su cose non condivise. Un buon momento di dialogo, un momento anche di alta democrazia. Assessore, nei giorni scorsi il PD aveva lanciato un'allarme sulla Sangritana, sulla scadenza del contratto di servizio del 30 giugno e il rischio per l'azienda dei trasporti regionali di perdere il trasporto passeggeri. Com'è la situazione? Allora, tanto che rischia la Sangritana è che ieri insieme a Pasquale Di Nardo abbiamo firmato il contratto di acquisto di due locomotori dalla Bombardier. Questo proprio per rispondere con una battuta. Allora, il contratto di Sangritana è in corso, scade il 30 giugno. È chiaro che è in una fase di dialogo fra i tecnici di Sangritana e i dirigenti perché, ripeto, il contratto è un atto tecnico dove ci sono le competenze dirigenziali e si sta definendo quello che poi è la continuità. Il discorso dei sei anni e un anno non può valere anche per tutto quello che sta succedendo. I contratti della Sangritana andranno avanti fino alla scadenza dei contratti di Trenitalia perché dopo, tutti insieme, quando ci saranno le gare, si andrà a rispondere per le gare. C'è un sistema trasportistico in evoluzione a livello normativo, decreto liberalizzazione, costituzione dell'autorità dei trasporti, tantissime cose ed è normale che nel dibattito che c'è nazionale fra gli assessori dei trasporti e il governo c'è il primo punto che è anche importante per questo. Tutti gli assessori nazionali stanno chiedendo al governo certezza dei fondi a sostegno non solo dei contratti Trenitalia ma anche dei contratti delle aziende regionali su ferro. Se non c'è questa certezza è normale che non si può andare a dei contratti più lunghi ma non c'è nessuna preoccupazione, ci sarà il rinnovo fino alla stessa scadenza di quella che sarà Trenitalia è un lavoro che continuerà con reciproca soddisfazione. Poi va avanti anche la riforma dei trasporti, va avanti anche l'interlocuzione fra Trenitalia e San Gritana per un eventuale consorzio. C'è tanta carne al fuoco. Ricordo con tristezza che anche l'anno scorso c'era stato un intervento del PD che diceva che non so per quali motivi sarebbero stati bloccati i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e così non è stato. Io purtroppo non posso rispondere agli allarmi ma devo lavorare in un momento di grande difficoltà. Forse un attimo più di collaborazione o un confronto un po' più tecnico farebbe bene principalmente ai cittadini abruzzesi.